Consiglio comunale sui temi della democrazia partecipata. Chiedere il ritiro della proposta riguardante l'estituzione dei comitati di quartiere alla luce del recente incontro con l'amministrazione nel rispetto del lavoro svolto dalla Commissione per trovare una sintesi tra tutte le posizioni emerse. Se c'è da fare un passo indietro per farne due in avanti non saremmo certo noi a tirarci indietro. Quello proposto, ha detto Ficara, è un atto perfettibile e migliorabile con l'apporto dell'Aula, della Giunta e della burocrazia per tracciare un percorso condiviso nel rispetto della legge e urbanizzato con il nostro statuto. La proposta mira l'estituzione dei comitati di quartiere intesi come organismi di partecipazione popolare alle scelte di programmazione e alle attività amministrative. La riforma che ha cancellato le circoscrizioni, ha aggiunto tra l'altro Ficara, non ha solo fatto venire meno una diversità nella integrità, ma ha acuito ancora di più le distanze tra centro e periferie. Perché è innegabile che non si può parlare di Belvedere o di Cassibile come semplici quartiere di una città. Sono infatti città nella città con una loro storia, una loro dinamica, un loro essere comunità che non possono essere negate. Occorre individuare lo strumento che attua in percorso di reciproca collaborazione tra centro e periferia. Un sistema di partecipazione attiva grazie al quale tutti i cittadini potranno contribuire ai processi decisionali che riguardano la vita della comunità, in particolar modo quella costituita dalle zone periferiche. Al dibattito che ne ha eseguito hanno dato il loro contributo i consiglieri Messina, Mangiafico, Costantino, Zappalà, Basile, Reale, l'assessore Moschella e il segretario generale Costa. L'Assemblea cittadina ha fatto una disamina sul decreto sicurezza. Subito dopo l'Aula maggioranza ha approvato un ordine del giorno illustrato da Carlo Gradenigo riguardante l'impatto sul territorio del decreto sicurezza. Impegna il Sindaco e la Giunta ad aprire un confronto con la Prefettura, la Questura, i sindaci della provincia e la comunità locale rappresentata dall'associazionismo che opera nel settore al fine di valutare le rigadute concrete del provvedimento in termini economici, sociali e sulla sicurezza del territorio. E' uno stimolo, ha detto Gradenigo, per analizzare un tema e un problema che riguarda tutti i comuni. Occorre trovare delle soluzioni condivise evitando battaglie ideologiche che poco hanno a che fare con la ricerca del benessere comune in termini di sicurezza e qualità della vita. Al dibattito ha dato il suo contributo Rita Gentile che ha ricordato all'Aula l'impegno dei tanti volontari italiani all'estero, tra i quali Silvia Romano, sequestrata in Kenya e della quale non si hanno notizia da qualche mese. Sull'ultimo punto all'ordine del giorno, la proposta avente oggetto del riequilibrio finanziario nascente dalla riduzione da parte della regione del finanziamento delle rette per il ricovero dei minori per l'anno 2016, il vice sindaco Giovanni Randazzo, alla luce del dibattito d'Aula, al quale hanno dato il loro contributo i consiglieri Vinci, Reale, Magiafico, Messina e la regione generale Gianni, ha chiesto un rinvio tecnico della trattazione. La regolarizzazione contabile servisce al pagamento effettuato in favore di alcune cooperative sociali relative al servizio di assistenza ai minori già effettuato nel 2016, il cui costo è assicurato anche attraverso un contributo erogato dalla regione, un decredito regionale dell'anno successivo, rimodulando i finanziamenti agli enti locali, che ha ridotto l'ammontare. Da qui il disavanzo contabile che l'atto doveva sanare. L'Aula, con un minuto di raccoglimento, ha anche ricordato la figura di Sebastiano Tusa, l'assessore regionale ai beni culturali, tragicamente scomparso nel disastro aereo di domenica scorsa.